Non so se tutti hanno capito, però questa canzone dice ai ragazzi come si può usare uomini molto vecchi perché non funziona... Non so se per tutti è chiaro, ma comunque dovrebbe essere... E non può essere contenuto in questo... In una puntata... La risposta esatta era perché aveva tracciato da C... Sì... Bene... Bene... One, two, three, one, two, three... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti